S.K.A.P.E.R.I.S.T.A.M. Ehi! Ci vediamo! Noi torniamo per primi! No! S.K.A.P.E.R.I.S.T.A.M. 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 No, S.K.A.P.E.R.I.S.T.A.M. S.K.A.P.E.R.I.S.T.A.M. È tutto ok. Sei intero. Respira. È tutto ok. Non credo che dovremmo rimanere ancora qui. Allora... Addio. S.K.A.P.E.R.I.S. S.K.A.P.E.S.T.A.M. S.K.A.P.E.R.I.S.T.A.M. Se... Il timone è bloccato. No... Non si muove. Wow... Che cosa è? Ma sta succedendo? Ma che... non mollate, ok? Si sta allentando Bene, bella mossa Non sento il timone È Seth Sì Sì, è lei La mamma è qui ora Sì, è lei 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 Che gran calore Sì, è lei 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 Sì, è lei